Stop, almeno per ora, alla discarica di Podererota. È d'obbligo la prudenza per cui se questa notizia sarà effettivamente confermata è senza dubbio un traguardo, un obiettivo importante, è stato raggiunto. La conferenza dei servizi ha archiviato il PAUR, il procedimento autorizzativo per l'ampliamento della discarica di Terra Nuova Bracciolini. Questo PAUR si è aperto due anni fa e dopo tutta una serie di rinvii finalmente questo organismo tecnico si è riunito e secondo le informazioni che sono giunte fino a noi la regione toscana ha deliberato all'interno della conferenza dei servizi la chiusura del PAUR. Per noi questa si è confermata, come dicevo, è senza dubbio una notizia molto importante. La riunione in regione ha fatto seguito ad una lunga serie di prese di posizione contrarie all'ampliamento espresse nelle scorse settimane dai sindaci dei comuni interessati e dai comitati. Sono tre anni appunto di lotte, di battaglie, abbiamo condotto insieme agli altri sindaci del Valdarno, all'Associazione del Territorio, al Comitato Vittime di Podere Rosa perché la discarica di Podere Rosa non venisse ampliata. Rimane in piedi ancora il procedimento di bonifica, CSI ha questo ad accompletare il piano di caratterizzazione. Noi ci auguriamo davvero che anche in termini in questa direzione siano fatti interventi importanti e quindi il territorio si è bonificato ma, come dire, l'obiettivo più importante veramente è la chiusura definitiva di questo sito di discarica che non riceve più i rifiuti urbani ormai da diversi mesi ma non vedrà se la notizia sarà confermata neppure l'ampliamento. Grazie. 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 Grazie.